Bentornati, 350Z di nuovo, è wrappata, è scura, è sporca Abbiamo Black & Wrap Shampoo, che serve appunto per auto nere, per auto ppffate e per auto con finitura opaca Qui in questa location, da gennaio in poi ragazzi, faremo dei seminari Quello che vedi nel video potrai vederlo dal vivo Una cosa pazzesca E tu, cosa devi fare? Ti devi iscrivere, tutto qua, semplicissimo, gratis, un click, vai, pronti, ciao, buona visione Black & Wrap Shampoo, lava e protegge e ha un'azione anticalcare, studiato per auto nere, pellicolate con ppff e finitura opaca Ha una schiuma soffice e compatta e aiuta ad evitare micro swirl e graff Le auto oscure sono molto eleganti ma la loro pulizia può richiedere maggiore accortezza Anche perché sul nero un micro graffio si vede immediatamente Due in uno, azione lucente e antimacchia in un unico prodotto La sua formula elimina il microfilm di calcare che si forma lavaggio dopo lavaggio In caso di finitura lucida il calcare spegne il colore mentre sulle finiture opache, che sono più porose, incapsula molto il traffic film, lo sporco stradale Quindi ragazzi usiamo il Black & Wrap Shampoo per risolvere tutte queste grane Prima del lavaggio, mi raccomando come sempre, ve lo dico sempre, dobbiamo fare il pre-lavaggio con il nostro foam gun pre-wash Questo qua Se vuoi approfondire il pre-lavaggio ti lascio un link qui in alto a destra, cliccalo e vatti a vedere il video Procediamo con la lavaggio Il lavaggio manuale della vettura con la tecnica del doppio secchio Che ci servirà per risciacquare il guanto o la spugna di lavaggio Ti lascio un altro link per approfondire la tecnica del doppio guanto Sempre qui Ad ogni modo il guanto deve essere sempre pulito e deve essere in morbida microfibra Vi consiglio di fare un pannello alla volta, un pannellino Risciacquiamo il guanto e continuiamo Diluviamo in un secchio 4 tappi di prodotto e 8 litri d'acqua Ora procediamo con un accurato lavaggio manuale Lavando un pannello per volta, sempre all'ombra A veicolo bagnato e partendo dall'alto verso il basso A ogni pannello risciacquate la spugna o il guanto di lavaggio nel secchio contenente acqua pulita Risciacquiamo frequentemente guanto o spugna Perché le particelle rimangono intrappolate nella spugna stessa E rischiamo di avere un effetto abrasivo O ancora peggio di creare graffi sulla vernice nei successivi passaggi Lavoriamo un pannello per volta facendo attenzione alla pulizia di tutti i componenti Inclusi loghi e particolari La proprietà lubrificante del prodotto permette al guanto di scorrere senza il rischio di creare micrograffi o swirl Completiamo il lavaggio su tutta la vettura senza mai far asciugare lo shampoo sulla carrozzeria Ragazzi fate tutto con calma Ci vuole tempo a lavare una macchina da maniaci Richiede mezza giornata come minimo Sapete quante volte mi è capitato di dimenticare un punto perché volevo fare le cose di fretta? Bene vi do un consiglio Fate un pannello alla volta Così non dimenticherete nulla Bene ora è arrivato il momento di risciacquare la macchina con acqua ad alta pressione La sua formula ricca di sequestranti minerali Permette di prevenire in maniera drastica la formazione di macchie di calcare in fase di asciugatura I cosiddetti water spot lasciano la superficie perfettamente lubrificata Vedete in fase di risciacquo l'acqua si apre La superficie è stata completamente purificata E quindi l'acqua scivola con un velo compatto In fase di asciugatura consiglio di usare questo panno ultra assorbente in microfibra super dryer Black & Wrap Shampoo è un vero e proprio 2 in 1 Ringiovanisce la vernice o la pellicola adesiva di rivestimento Eliminando in profondità e con delicatezza lo sporco Anche quello più persistente La vostra auto avrà un nuovo aspetto Rivitalizzato, ringiovanito Ma questo prodotto si può utilizzare anche su auto chiare? Assolutamente sì Il prodotto è un vero e proprio shampoo decontaminante Potete utilizzarlo tutte le volte che volete Perché donerà sempre alla vostra carrozzeria un aspetto brillante come nuovo Ogni quanto posso utilizzare Black & Wrap Shampoo Lo posso utilizzare ogni volta che vedo la carrozzeria opacizzata o spenta Black & Wrap Shampoo contiene cera? No, perché rischierebbe di lucidare le superfici opache Ma contiene dei protettivi che permettono di preservare nel tempo l'aspetto originale Preservandola da macchie di calcare Che danno quel grigiore alle auto wrappate o nere Posso fare il lavaggio con un solo secchio? Sì lo posso fare Però io lo sconsiglio Se lo fai con un solo secchio perché sei un pulciaro Manine e braccine corte Non puoi spendere i soldi per due secchi Fai male Però lo puoi fare E allora ti consiglio di risciacquare frequentemente Il supporto con il quale hai deciso di lavare la macchina Quindi la spugna o il guanto Se il guantino è pulito Non ha residui Quindi questi non possono essere spostati sulla carrozzeria Quindi non si graffia È fondamentale che a ogni pannello Il supporto di lavaggio sia perfettamente pulito In modo che sulla superficie si deposite la soluzione di acqua e shampoo Che mi aiuterà a portare in sospensione lo sporco E a rimuoverlo delicatamente e senza causare danni Ragazzi Cioè questa è una roba da maniaci Capite? C'è chi mi scrive qui sotto nei commenti Eh ma ci vuole una giornata per fare un lavoro del genere Sì è vero ma se vuoi una macchina bella è così Cioè dimenticati Dimentica di investire poco tempo in quello che stai facendo Vedi? C'è scritto lì Maniac Line Io sono un maniaco La mia auto la lavo due volte a settimana E mia moglie mi guarda e mi dice Oh sprechi l'acqua di qua di là A di su a di giù Però alla fine la mia macchina è sempre bella Che bomba Guardate che meraviglia È tornato il colore originale del wrap Si è acceso Devo fare i complimenti anche a Frank Per questa 350Z È pulita Non è una tamarrata E poi va pure forte Black and wrap shampoo Ragazzi un prodotto che funziona benissimo Vi lascio qui sotto un link Andate in descrizione Cliccatelo e compratelo Fate i maniaci Diventiamo tutti i maniaci dell'auto Iscrivetevi al canale Lasciateci mille, duemila, cinquemila like E noi come al solito ci vediamo nella prossima puntata Ciao 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 Ciao